Questo posto è fantastico. Sai che voglio fare? Voglio farlo inzampare e farlo cadere a terra. Sta, andiamo. Qui, 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 qui. Ehi, che ne dici di andare da me? Ma certo. Di un po', hai sentito? Io l'avevo detto, quel ragazzo è un depravato. Porco! Adesso che facciamo? Dobbiamo inventarci qualcosa prima che sia troppo tardi. Allora, entriamo e poi che facciamo? Ci sto pensando, ancora non lo so. Dobbiamo improvvisare. Che cosa? Noi dobbiamo assolutamente metterlo in imbarazzo. Beh, ci verrà in mente qualcosa. Forza, forza! Lui! Vai, sbrigati! Forza! E adesso che facciamo se ci avesse visto? Adesso saremo noi a fare una brutta figura con lui. Forse dovremmo uscire all'improvviso e provare a spaventarlo. Poi potremmo giocare a nascondino, sei una bambina, forse. Ti fai venire, è una buona idea. Nascondiamoci! Nascondiamoci! Burco, ma dove ci nascondiamo? La stampa è piccolissima! Nella doccia! Nella doccia! Dai, vieni, andiamo nella doccia! Dai, presto, sbrigati! Finalmente! Vieni qui! Io non ci voglio stare! Ora sentiremo tutto, ma dove mi hai portata? Ti prego, Oiku, fa silenzio! Ti prego, fa silenzio ora! Chi rendi conti in che situazione ci hai messo? Sto cercando di pensare, se me lo lasciassi fare! Ho visto come pensi! Guarda dove siamo finite! Tu che dici? Pensi che lo faranno? Mi aspetto qualunque cosa da quel depravato! Sì, così mi piace! Che cosa vorresti fare? Aiase, non ci posso credere! Tu sei davvero un mostro! Aspetta, voglio sfogliarmi! Si sta sfogliando, hai sentito? Ho sentito, è un vero disastro! Ti va di fare una doccia prima? Ora stanno venendo qui! Andiamo a farla insieme! Pensate che sia stupido! Visto, ci ha scoperte! Non devi fare delle cose che non sei in grado di fare, Karina! Mi hai chiamato Karina? Aiase, te lo devo dire! Tu sei stato davvero un grande! E dico sul serio! Burko, tu verrai punita essendo una complice del reale! E non cercare di adularmi! Adesso andate via! Forza! Dai, andiamo! In ogni caso, non volevo fare niente con lei! Tanto a me questo non interessa neanche un...